È stata recentemente annunciata con un teaser trailer la serie tv di Fallout, che sarà prodotta da Amazon Studios e Kilter Films. Il video utilizzato per presentare la serie è molto breve e non fornisce purtroppo alcun dettaglio sul progetto, ma sul blog della serie Fallout è apparso un comunicato ufficiale che ha fornito ulteriori informazioni. I produttori esecutivi della serie saranno Jonathan Nolan e Lisa Joy, già executive producer di Westworld, della HBO, mentre la supervisione del progetto è stata affidata a Todd Howard e James Altman di Bethesda, che si occuperanno di renderlo quanto più coerente possibile con l'universo di gioco. Joy e Nolan, che si sono dichiarati felici di poter lavorare ad una delle più grandi saghe videoludiche di tutti i tempi, con la quale dicono di aver giocato molte ore, hanno dichiarato che sono incredibilmente contenti di collaborare con Todd Howard e gli altri pazzi creativi di Bethesda, per dare vita a questo immenso e sovversivo universo distopico insieme ad Amazon Studios. Todd Howard, executive producer di Bethesda, ha invece dichiarato che negli ultimi dieci anni la software house ha valutato diversi modi di portare Fallout sugli schermi TV, ma Jonathan e Lisa, visto il loro incredibile curriculum, sono stati un punto fisso fin dal principio. Anche gli Amazon Studios, nella persona di Albert Cheng, CEO della compagnia, hanno dichiarato di essere entusiasti di unirsi a Bethesda per portare Fallout in televisione. Fallout, come sapete, è una serie videoludica storica ed iconica, che oramai conta quattro capitoli ufficiali più numerosi spin-off. Il comunicato ufficiale purtroppo non dice ancora nulla sul cast o se le puntate della serie prenderanno spunto da uno dei videogiochi, quindi siamo costretti a pazientare ancora un po' per ottenere ulteriori informazioni a riguardo. Quel che è certo è che noi siamo davvero in hype e non vediamo l'ora di saperne di più. E se anche voi siete curiosi, iscrivetevi al nostro canale YouTube e cliccate sulla campanella per attivare le notifiche. In questo modo potrete vedere tutti i nostri video e restare sempre aggiornati su questa serie tv e su tutte le novità provenienti dal mondo dei videogiochi. L'appuntamento è al prossimo filmato, sempre qui su Multiplayer.it